La storia è ciclica, si ripete, come le fasi di questo importante torneo europeo. Anche quest'anno è arrivato il momento degli ottavi di finale, la fase a gruppi e alle spalle. Qui non ci sono seconda opportunità, non bisognerà avere pietà per l'avversario. Istinto, venacia, lotta per la sopravvivenza, queste sono le uniche regole della legge del più forte. Prendete posto sui gradoni dell'arena, che la battaglia abbia inizio. Questo impianto sportivo è la cornice ideale per ospitare incontri di questa importanza. Il pubblico di casa ha già alzato la manopola del volume, loro sono sicuramente già pronti, caro Luca. L'atmosfera è già bollente, Fabio, ed era quello che ci si aspettava da questa tifoseria. La fase a gironi ci ha regalato sprazzi di grande calcio e qualche sorpresa, ma siamo onesti, in qualsiasi competizione sono le partite da dentro o fuori a entrare negli annali e nel cuore dei tifosi. L'arbitro ha già dato il via alle danze. Luca, chi pensi possa essere giocatore decisivo oggi? Giorgio Chiellini, uno dei migliori nel suo ruolo. Imponente, forte, risoluto, bravissimo nel colpo di testa, sia nella sua area che anche in quell'avversaria. A tutti i requisiti del grande difensore centrale. Ah, guarda, mi trovi assolutamente d'accordo, le sue capacità di guidare e organizzare la difesa saranno fondamentali. Bernardeschi si lancia sulla fascia sinistra. Bernardeschi! Douglas Costa. Perde il duello fisico con l'avversario. Pedro. Giorginho. È davvero una bella serie di passaggi questa. Si libera la grande. Cross di Pedro. Lunga, 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 troppo lunga. Douglas Costa. La Juventus ha avuto un maggior possesso palla finora. La partita però è ancora all'inizio. Vediamo se può capitalizzare. Pronto al tiro! E c'è il gol della Juve! La Juventus ha fatto un ottimo scambio che ha mandato in tilt la difesa. Splendida l'intesa tra i giocatori. E la partita inizia alla grande. Subito gol! Tiago Silva. Rivalta il gioco sull'altra fascia. Aspili Queta. Ottima copertura qui. Li hanno indotti in errore interrompendo la manovra prima che diventasse davvero pericolosa. Pericolo in aria. Pericolo sventato almeno per ora. Costa. Costa. Douglas Costa. Riconquista la palla. Hanno già riconquistato palla. Occasione per il contropiede. La mette in avanti. Ecco il filtrate per Giroud. Giroud! E' un giocatore! E' un giocatore! E' un giocatore! E' un giocatore agito benissimo. Il pareggio mi sembra assolutamente meritato. E' andato fino in fondo ed è stato freddissimo sotto porta. Niente da fare per l'estremo difensore. Potremmo solo sperare che non mantenesse la calma. Segna quindi la seconda rete in questa competizione. Si riparte. Di nuovo in parità. Si sono disuniti dopo aver segnato e sono stati puniti subito. Complimenti agli avversari. Giroud! Douglas Costa. Il Chelsea? Si sta tenendo alta entrambi i terzini. Vogliono aumentare la spinta sulle fasce limitando l'avanzata degli esterni avversari. E per farlo ripresa alti in modo da bloccare. Prova a tirare! Beh questa idea del cucchiaio non granché. Ha fatto bene a provarci ma il risultato non è stato quello sperato. Bernardeschi. Ottimo dribbling. Può crossare. Pedro. Barclay. Barclay. Fa avanzare l'azione sulla fascia. Barclay. 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 Recupera palla con un ottimo intervento. Tiago Silva. La Juventus. Continua a essere in svantaggio e presto dovranno avviarsi verso gli spogliatori. Pedro. Aspiliqueta. Scatta verso il pallone. Può cercare il taglio in mezzo. Va, ci mette la testa. Di nuovo lui. Occasione fallita. È stato sfortunato. Artur. La Juventus. Mantiene il possesso palla ma non riesce a creare un pericolo reale. Impossibile tirare in queste condizioni. Lo hanno intrappolato. Barclay. Primo tempo davvero interessante. Tanto tutte e due le squadre si sono date molto da fare. Un primo tempo di grande calcio. Con attacchi vivaci. E un solo gol di scarpe tra le due formazioni. Squadra a riposo. Sono trascorsi soltanto 45 minuti Fabio. E ci sono già tutti gli elementi per inserire questa partita tra i classici da ricordare. E come dicevamo abbiamo solo il primo tempo alle spalle. C'è ancora molto da vedere. Soltanto pochi palloni giocati in questo secondo tempo. La squadra in svantaggio. Non deve innervarsi. Giroud. Grande salvataggio da parte dell'esterno difensore. Una parata eccezionale. Ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano. Forse nemmeno i suoi compagni. Spazza via. Occhio al tiro. Cantè. Tentativo di allungare il gioco. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Ottimo intervento. Cristiano Ronaldo commette un'infrazione prontamente sanzionato dall'arbitro. Giorginho. Palla intercettata. Ottimo il suo senso della posizione. Lungo passaggio in avanti. La gioca a sinistra. Chirwell. Riceve un bel pallone. Riesce ad intercettare. Bernardeschi. Scodella in avanti. Ci mette il fisico. E conquista il pallone. Pallone lungo. In verticale. Ma non è riuscito a trovare il compagno giusto. Ha cercato di sfondare per vie centrali ma non ha avuto fortuna. Ha spazio sulla fascia. E l'arbitro con l'assistenza delle guardaline dice che c'è stato offside. C'era movimento in panchina. Finalmente vediamo chi ha scelto di fare entrare il mister. Proveranno a sfruttare la velocità del nuovo entrato per mettere in apprezzione gli avversari. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Arriva Cristiano Ronaldo. Esempio perfetto di marcatura. Gli hanno impedito di andarsene via palla al piede. E qui prende chiaramente l'avversario. Dunque punizione. Rudiger ha fatto buona guardia. Alza la palla in profondità verso il compagno. Ecco! Grande reazione del portiere. Bel pallone filtrante. Non è riuscito però a concretizzare. Un passaggio di grande qualità. Ha dimostrato grande visione di gioco servendo il compagno in quel modo. La difesa riesce a spezzare l'azione. Le squadre lottano per il possesso del pallone. Cantè. Crossa il pallone a centro aria. Bell'intervento di pensiero. Paolo Di Bala. Prova a scavaccare l'avversario con una palla lunga. Rudiger riprende il possesso. La Juventus ha fatto bene in questa occasione. Deve continuare così. E in questo momento devono prendere dei rischi. È necessario. Il portiere la stava combinando grossa. Quadrado. Quadrado. Intervento difensivo molto tempestivo. Ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Il direttore di gara interrompe l'azione. Si ripartirà con un calcio da fermo. Con una grande determinazione. Il direttore di gara. Il direttore di gara. Di l'avversario è quello che ha fatto. Di sostenibilità di gara. Il direttore di gara. Di i passaggi. Di sostenibilità di gara. Grazie. Di sostenibilità. Di sostenibilità. Qui il giocatore riceve un sonoro avvertimento da parte dell'arbitro, il cartellino lo aspetta la prossima scorrettezza. Ora sa di essere marcato a vista, un altro fallo e potrebbe vedersi sventolare in faccia un cartellino. La carica agonistica va bene, ma non deve esagerare. Arriva Cristiano Ronaldo, prova il filtrante. Cristiano Ronaldo, non riesce a servire il compagno. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Lancio lungo del portiere. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Chilwell sul pallone. Tibala, prova la giocata di misura. Se ne va. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo. Devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Lotta, ma perde l'equilibrio. Bentancur. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Cristiano Ronaldo. Cerca lo spunto. Quadrado. Cross verso il... Tocca con la testa. Tutto bello, ma la conclusione non va a segno. La Juventus ha portato tanti uomini in area di rigore. Non sono comunque riusciti a realizzare. La Juventus tenta quello che probabilmente sarà l'ultimo a fondo della partita. Bernardeschi. Devono cercare di essere più concreti se vogliono recuperare. Cerca l'uomo là davanti. Gioca una palla lunga. Chiellini. Il recupero è quasi finito. Presso arriverà il fischio dell'arbitro. Di Bala. Bernardeschi. Cristiano Ronaldo. Bernardeschi. Buon intervento difensivo. Eccolo il triplice fischio. Il fischio che determina la fine della gara. A ritorno giocheranno in casa. Questo può essere un vantaggio. Certo devono cambiare passo, atteggiamento e personalità. Eccoci qua Luca, allora qual è la tua opinione sulla gara? Una sconfitta brucia sempre, ma non è tutto da buttare. Devono lavorare su... Bala. Fun téléphone. Grazie a tutti.